Sì, fortunatamente siamo stati fortunati e bravi a segnare nei primi dieci secondi di gara. Carmelo De Luca è stato abile a sfruttare un'incertezza della difesa avversaria e ha fatto subito gol. Poi abbiamo raddoppiato nei primi dieci minuti e diciamo che la partita si è messa subito in discesa per noi. Ritorna a allenare dopo diverso tempo, come hai trovato questo campione di seconda categoria? Ho passato un periodo di tranquillità dove mi sono riposato un po', ora ho accettato la proposta e la sfida lanciata dal presidente del Savoca. È un bel campionato, diciamo che ci sono delle buone squadre, speriamo di dire la nostra. Secondo te questo Savoca cosa potrà fare? Il Savoca se si allena può arrivare molto in alto, altrimenti lo sappiamo tutti, se non ti alleni non vai in nessun posto.